Musica Quindi oggi sono qui per portarvi un episodio degli Skywars Mega Ovvero quegli Skywars da 100 giocatori che ovviamente sono raggruppati da quadri composti da 5 E soprattutto ragazzuoli mentre iniziamo questo video vi invito a superare i 1000 like ovviamente per il prossimo episodio E soprattutto voglio andare a ringraziare Andre ovvero il ragazzo che nel corso di queste settimane Mi sta completamente cambiando le preview Perché come avete potuto notare dato che tutti mi dicono sono fighe sono fighe Quelle preview non le sto facendo io ma le sta facendo Andre che è un grafico Ha anche un canale YouTube che ovviamente trovate qui sotto nella descrizione Mi raccomando passateci E che spero nelle prossime settimane di riuscire a portare nel mio canale per riuscire a registrare qualcosa Comunque ci teniamo a dirvelo perché le review sono troppo troppo fighe Comunque ovviamente l'hack oggi perderemo malissimo perché in questo server pieno di cheater e lag E' una cosa assurda E va bene allora ci teniamo sulla mappa on tori Mappa che fa abbastanza schifo perché le isole sono troppo attaccate sinceramente Perché è scritto mug ml tv in chat Io ho preso i pantaloni di diamante Ok io ho preso la spada di diamante giantata con sharpness E i pantaloni Ci stanno fregando qua tutto Perfetto L'hack tu che vuoi fare vuoi scavare oppure no Non lo vuoi il diamante Comunque ho anche la canata pesca Comunque ragazzi come sapete è uscita la 1.9 L'hack ho scoperto tante cose All'1.9 Però ancora questo server è la 1.8 ragazzi Quindi possiamo stare tranquilli Poi magari quando che ne so usciranno gli skyworks 1.9 vi andrò a spiegare i cambiamenti nel pvp Perché è cambiato assolutamente tutto Ma c'è quella cosa No qua non c'è l'hack Ancora siamo all'1.8 infatti L'hack stanno pushando Ma quella cosa che avevamo dato l'altra volta in quel video Poi ti spiego l'hack Poi ti spiego Comunque l'hack stanno pushando Stanno pushando Da che lato Da un altro lato Ne ho ammazzato 1 Ne ho ammazzato i 2 Ma sta spada che problemi c'ha Poi le vieni Sembra la spada di Gesù Aspetta l'hack devo ammazzare il terzo Che mi sta pushando con l'arco spada Ok Poi le vieni subito Poi le vieni subito Gli altri sono tutti low Vieni vieni Curo Arrivo arrivo Ma c'è tanta gente da quel lato Sono tutti low Andiamoci va bene Se perdiamo è colpa tua Guarda guarda C'è HP E 15 Dai 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 L'ho shuttato Cioè l'abbiamo shuttati Eh l'hack ci sono i vicini Che stanno arrivando Full scappa scappa Nella nostra No non ce la facciamo scappare Non ce la facciamo scappare Picchia 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 Stanno bruciando ho visto È un massacro Io posso muoio? Un massacro Sono morto L'ultimo è morto Però vai 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 Oddio Tranquillo No 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 Ok Stanno venendo? Non lo so Ti ho perso Un attimo Corri corri Ho l'arco Devo trovarti Oddio L'hack Ma quante kill abbiamo fatto? Non so Io non ho fatte 3 kill Io non ho fatte 6 E 7 Vole morto uno sotto Ha un cuore No Vole un cuore Un cuore Un cuore Vai 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 Ok L'hack mi devo tranquillizzare Un secondo Coprimi ok I ponti Alcetto ci sono i nostri Sì tu coprimi i ponti Ok Un secondaino Preciso Oddio Ma il massacro di Genoveffo Abbiamo fatto E lo so Sto cercando proprio quello C'è un paio di cadaveri a terra Sentite il danno di qualcuno Aspetta Lato ci aspetta Forse me l'aveva appena raccolta Sì C'è troppa cosa Qua a terra Proprio così Troppa cosa Termine italiano Poi le buste là sotto Incentato Già l'ho preso Dove è qua sotto Incentato sotto sotto Ah l'ho appena visto Non è il tuo comunque questo Protection 2 Ok Adesso Mi metto qua Butto le cose a terra No le metto C'è l'elmetto a terra Controlla vedi No però qui vedo più di un diamante Qua c'hanno due diamanti Tu quanti ne hai? Zero E a terra ce n'è altri diamanti Aspetta mi prego E sotto ci sono due diamanti da scavare Vabbè ne frego l'h di diamanti Già sono fullo No vogliamo partire il metto No e non vediamo il full diamante No 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 Non lo faccio Dai No mi rompo Ok 33 fecce Più 64 Le palle di neva No me ne frego Ragazzi mi sto prendendo l'inventare Perché nel caso Dovessi ammazzare Vabbè ne vuole un diamant Non lo Me lo mi No La prossima volta Comunque Allora quanti siamo rimasti Oddio ma quanti siamo Io sono da solo We want The full Diamant No diamant Luca allora aspetta Silenzio ho bisogno del tuo aiuto Sono da solo Push a middle Già sono in middle Ma io voglio capire Ecco là c'è un full diamante Hai visto full? Non coglione come te Cavolo sono in due Sono due full diamanti e in team E tu hai tirato la freccia Sono di spalle vero? Ok vabbè 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 C'è il piano C'è il vuoto lì eh O no Allora perché mi hai fatto andare? Sono pure incentati Stanno andando via Stanno andando a picchiere uno Corri corri Stanno andando a picchiere due Curru curru E io curru Ce la farò mai ragazzi Però si stanno piccando Fletti loro Buono buono Vabbè sono tutti low Uno è salito sulla lava Vai vai Curru Spero che questi qua Non siano in team però Sono low Sì sono in team Però guarda Stanno morendo No no sono in due Ah il ferro aspetta Ce la puoi fare? Io ho la resistenza al fuoco Però mi sono incastrato da solo Non ci credo Sono morto No avevo un cuore Stavo scappando Ragazzi questa prima partita Ho fatto 7 kill Tu ne hai fatte? Io ho 3 E quindi abbiamo eliminato insieme 10 persone Quindi 2 team Però non ce l'abbiamo fatta Ancora mancavano 15 persone Quindi anche volendo O camperavo tutta la partita o niente Quindi devi fare la seconda Anche se non mi vedo Ok ragazzoli Eccoci qui in questa seconda partita Per la prima volta Abbiamo uno spawner modificato Perché boh uno dei nostri L'avrà droppato in qualche posto E niente luck Tu che c'è sta mire? Questa qua E' quella sopra la crafting table Ok tu ho quella Speriamo di non farci fregare le cose Ok Spada di diamante Scarpette Un coppolo Un coppolo E' tutta una spada Ok Sto chest Sì Ok C'è il spedetto di diamante Il nostro già sta pushando Nell'isola di altri Io ho due carata pesca Via 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 Aspetta luck Mi sto togliendo qua tutte ste cose Ok Ehm Già abbiamo riuscito nell'isola E' una mazza di tutti I nostri luck sono agguerritissimi E' uccisi tutti e due io Ah tu? Buono Ehm C'ho paura 3 uccisi Ok Io ho a caso Perfetto Ehm Dobbiamo stare attenti Perché ci fosse unire anche dalla nostra isola Quindi non è per una cosa così bella Primo cavolo di vero Nel frattempo butto ste cose giù Ok Dove andiamo luck? Ah già quelli si stavano collegando Saluta Andai Aspetta aspetta che qua ci sono cose che mi servono E forse servono anche a te Oh salutando Basta Basta luck Comunque tieni luck Una cheese plate E scarpette Ste cose E' la spada Spada di diamante questa Io ce l'ho in diamante Scarpetti di diamante Ehm Va bene Ti serve Ti può servire Stanno pushando a quel lato luck Dove hai detto ammazziamo quello Ah tu è l'arco Ok Se ti serve a vita dimmelo che ti sparo una pozione Stavo E' che abbassisi Comunque è da solo quello Potremmo anche provarci Se fai la scar- Aspetta luck Non ti fa buttare giù come un fesso Non lo butto giù Guarda No luck Che scarse con l'arco No 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 Allora c'è la torcia davanti a me no Hai beccato la torcia in secchi a lui Te la fai inseguirlo Dici minuti per mettere dei blocchi Ma poveraccio Devo non morirci tutti male pure C'è l'altro c'è l'altro Allora sei spettino di diamante A me serve Grazie Guardiamo a cerco Luck vieni che ti passo le cose nelle ceste C'è almeno l'armatura Guarda arriva luck Bello tranquillo Vieni te l'ho messo qua A parte per la spazzatura C'è uno che si è fatto l'ace Lace Lace Che è semplice Comunque la tecnica migliore non è andare al centro Cioè rispetto alla partita di prima Ma è pushare così da tutte le isole E per ora ho fatto 0 kill e 3 assist Bello No I think I think cosa Dimmi che c'è Luca io l'arco con un casino di frecce Oh wow Mi stai seguendo vero Perché se vi lasci solo Lo sai che poi me la prendo con te Comunque ho trovato una spada con sharp nessuno Tieni prendila Nella chest Ma la vuoi luck Sharp nessuno diamante Sì Mi rompo di rivelerla Non me la porse niente No niente E potevi fare uno più di danno Invece è ritto Luck là sotto Tutto ci avevano visto Ci sono anche altri nell'altro settore Spero che non si approfittino di questo momento Lei ha ammazzato luck? No sta stendendo folle Sta stendendo folle No ci sono i suoi amici Frecce frecce spamma frecce Guarda il mio scappo Io ne ho 21 Ti ho 10 frecce Almeno in due facciamo più danno Lo buttate qua Allora c'entra ci un pochino di confusione Noto Potremmo andare da questi due sfollati Qualcuno fa un ponticciolo Ok c'è quello dei notti No sei tu luck Attento e tira canne da pesca È un frutto Canne da pesca Sì sì Io mi guardo attorno Perché non voglio essere preso da dietro Ha tirato la pozione all'avvelenamento Che brutta persona KTM Che buttata la regeneration Ok vabbè Quello ha deciso di andare via Capito che ci muore L'altro invece lo butto No Non è morto Lo buttare giù a frecciole Quello è come air Eh io là che sono nell'altro air Pusha 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 A solito mi metto le due pozioni Della regeneration sotto Così in caso te le sparo Se stai per morire Oh qua qua Oh andò è morto Vai vai Zero cuori È morto E qua c'è il full diamante Pozione pozione Ok Non ti devi mettere contro dark foo Perché se ti metti contro dark foo Ti metti contro di me È contro Antonio vero Ma questo qua che cosa aveva Vabbè Io per farvi curare Mi sparo un'altra regeneration A terra Comunque questa Questa è la prima partita Abbiamo trovato un team decente Cos'è che c'è un neg Luca non pushare da solo Ok vabbè Un poveretto Comunque è fatto al momento Due kill E tre assist Tu lo Oh Qua nessuno qua sta salutando Annoni Eh luck Direi di tornare indietro Perché Quel poveretto L'hai visto cosa c'è davanti Eh vabbè Ci siamo tre Lui due Eh infatti ho detto Aspetti nostri Che stanno battendo La ritirata Ah fire aspect Tiene la spada questo Cur cur Ritirata Ritirata tattica No aspetta Non a fire aspect Sì a fire aspect A fire aspect Luca Fate il giro dal nostro lato Uno lo sto uccidendo Eh mi è arrivato Con fire aspect Che sto cercando di spadare Ma È morta Ok l'ho buttato giù Però più che è morto Mi sa Dai c'è l'altro I suoi due cuori Ammazzatelo Sono molto Di fer aspect Eh rip Io ho fatto la mia partita Adesso tocca farlo a me Una folle Quanti cuori ha? Luck? Quanti cuori ha? Due cuori Una freccia e muore Una freccia e muore E giù c'è il fuoco? È in culonia In culonia Luck Non posso prenderlo Si è rigenerato Non so che gli ha tirato Questa è tipo una palla di fuoco Questa è tipo una palla di fuoco Non è un donio Fuole fuori No 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 È il momento Dov'è? Ah là sotto All'arco vero? Non voglio farci La me la d'oro No la me la d'oro Vabbè io sono full vita Dio penso di essere caduto giù Ah mi è caduto giù forse Ok no Dovrei aiutarlo vero? Si stanno bruciando anche da sinistra Ok l'ho ammazzato io L'ho ammazzato io Allora da quel lato c'è un fesso Quanto ho visto Il ponte qua sta bruciando Tu non specchi davanti a te No luck No fammi insultare Poi davanti Un leso Un leso che però Mi sta spammando frecce Ehi signor cactus Signor cactus Si Ok è morto Mi servono le sue frecciole Ce le ha? Si Presse Ok Allora Mancara c'è un bel po' di gente Oppure quelli sono spettatori Ah no è l'ultimo questo Probabilmente Evan patata Ah solo l'arco c'è anche la spada Questo secondo te Ma Va bene Dove sta andando? We 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 Abbiamo vinto Yes Il primo è stato Uno che ha fatto 10 kill L'altro 8 7 Ne ho fatto 5 E tu ne hai fatto? Fatte anzi 3 all'inizio Ma va bene E basta così Mi ha trappato manco una cosa speciale Che tirchi che sono E sto server E quindi niente Da dark lord su polale L'arc è tutto E ci piacchiamo domani con due nuovi video Ciao 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 ciao